Gohan, sei impaziente. Se basta che devi mangiare qualcosa, sei impaziente. Devi imparare a essere paziente. D'accordo? Ora ci siamo ritirati da una lunga passeggiata e sono quasi le 10 di sera. E guardate un poco, Gohan vuole ancora mangiare. Non si è stancato di mangiare. E ora va lo zio pasquale e mangio il prosciutto. E poi Giacomo lì della carota e poi l'altro premio e l'altro premio ancora. Ora questo qua è un pezzettino di pollo. Va bene? Poi domani avrà l'altro. È vero Gohan? È vero? Dai vieni, vieni. Vediamo, vediamo. Su. Pieno, pieno, pieno. Bravo. Quanto è bello Gohan. cari amici, sicuramente lo amate voi, lo amate tanto Gohan, ne sono sicuro. Gohan ti ama anche lui e vi auguro una buona notte a tutti. Sì, 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 vai, vai. Sei libero ora, vai. Vai, vai, sei libero. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.